Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, come sapete ormai benissimo, da 81 puntate, bene sì. Prima di iniziare la puntata mi raccomando ricordate di iscrivervi sul nostro canale YouTube, di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche, tutti i nostri video, tutte le nostre dirette e ovviamente cliccate un bel pollice in su su questo video. Iniziamo subito con la puntata di oggi, parleremo quest'oggi non di quattro ma bensì di tre progetti, quelli più interessanti, quelli che hanno riscosso maggior successo, quelli che hanno avuto magari maggiori richieste anche nell'assistenza e ovviamente la foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di maggio, esattamente perché quest'oggi parleremo dei progetti che sono stati pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia proprio durante il mese di maggio. E non è finita qui, parleremo anche di un consiglio, quest'oggi parleremo di tendenza, di moda, quindi per voi fashion addicted e appassionate del crochet, mettetevi comode, cocktail, tè, coca cola, acqua, caffè, quello che sia e guardiamo subito la puntata di oggi non prima della sigla. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, iniziamo con un bel costume, ebbene sì, l'estate pare sia finalmente arrivata e quindi iniziamo per chi ne ha la possibilità a tuffarci tra le onde del mare, in piscina, acquapark, ovunque voi vogliate e possiate, con un bel costume. Quest'oggi prendiamo spunto però dal costume di Maddalena De Palo, lei ce ne propone ben due versioni, una sull'azzurro, l'altra sul blu. Quale filato ha utilizzato? Dai, ditelo voi, filato per i costumi, si sa. Il filato per eccellenza, vale a dire lo splash. E l'ho lavorato con l'uncinetto due e mezzo, ma ci ha inviato anche un vocale, quindi, attacchi, ascoltiamo e guardiamo. Mi chiamo Maddalena, ho 39 anni e vivo a Bari, una splendida città del sud Italia. Ho realizzato questo progetto perché, vista l'eminente arrivo della stagione estiva, ma che in realtà tarda ancora ad arrivare, volevo regalare un po' di brio per le ragazze che sfoggiano i vari costumi in spiaggia. Infatti ho scelto le tonalità del blu e dell'azzurro, proprio perché rappresentano i colori del mare e poi, accostati alla bronzatura, diciamo che mette ancora più in risalto la lavorazione del costume. Ho utilizzato il filato splash, che veramente ha superato tutte le mie aspettative, perché ho utilizzato altri tipi di filati, ma non ho ottenuto lo stesso risultato che mi ha dato lo splash. Ho lavorato con un uccinetto due e mezzo per poter avere una compattezza del lavoro e evitare di foderarlo. Terminato il lavoro, diciamo che la soddisfazione è stata tanta, soprattutto quando le acquirenti lo hanno indossato, mi hanno mandato delle foto con il costume a mare, devo dire che è veramente stata un'emozione splendida. Non ho delle misure particolari, ho utilizzato diciamo una S, perché le ragazze diciamo che me l'hanno richiesto erano una taglia 42-44, quindi ho lavorato una seconda di seno e per quanto riguarda lo slip mi hanno dato un loro costume preferito, ecco, e ho cercato di riprodurre le misure. Ho utilizzato per entrambi un gomitolo e mezzo circa. Quello blu era un po' più laborioso con gli archetti e le onde, diciamo, sia sul top che successivamente li ha voluti anche sullo slip, quindi ho modificato anche lo slip. Invece su quello azzurro è la semplicità che comunque va sempre per la maggiore, ecco. Davvero molto belli, ma adesso passiamo al secondo progetto. Questa volta invece parliamo di un capo di abbigliamento, vale a dire un maglioncino, di Monica Zandri. Monica ha utilizzato il Sinatra e lo ha lavorato con l'uncinetto 4,5. Ci ha inviato anche lei un vocale con qualche foto, quindi mi taccio nuovamente e lascio parlare direttamente Monica. Buongiorno a te, Silane, buongiorno a chi vi segue. Sono Monica Zandri, sono di Ancona. Uso l'uncinetto praticamente da quando ho 6-7 anni, grazie a mia nonna che mi ha insegnato a usarlo. Ovviamente poi l'ho ripreso da grande, però insomma diciamo che ecco la mia passione diciamo di fare le cose a mano, comunque usare la creatività mi danno molta gratificazione e soprattutto mi rilassano tanto. Diciamo che creare proprio con le mani qualsiasi cosa insomma si faccia per me è fonte proprio di divertimento e comunque anche insomma di usare una creatività che non pensavo di avere, ecco questa effettivamente è la cosa che comunque mi fa più piacere. Per quanto riguarda la mia maglia, diciamo che mi serviva un coprispalle, quindi la maglia Armonia della Fata è una maglia poncho, semplice insomma, a tutto punto alto. Diciamo che quella maglia è un po' un poncho, tra virgolette, fatta comunque a V all'inizio, si va giù facendo tutto V. Avendo il seno grosso ho fatto degli aumenti e quindi si sono create poi quelle balze che ci sono, che si vedono sulla maglia. Per quanto riguarda la parte invece delle maniche, cosa ho fatto? Ho continuato a fare avanti e indietro giri di andata e ritorno con gli aumenti e vedevo che mi venivano questi volant e quindi non ho chiuso sotto le maniche, l'ho lasciato un po', l'ho lasciato così. Il Sinatra mi è piaciuto molto, ho usato l'Optical perché mi piace molto il bianco e il nero, come colori diciamo che il mio outfit spesso è bianco e nero. In più con questo filato c'è anche il lurex, quindi comunque che è un'altra cosa che mi piace molto e quindi insomma rende tutto un po' più brillante. Ho usato l'uncinetto del 4,5, due rocche di Sinatra da 200 grammi. Per quanto mi riguarda mi piacciono molto le fettucce così fine. Il filato scorre benissimo ed è anche molto elastico, quindi diciamo ecco insomma per fare anche dei vestitini andrebbe benissimo. Il lurex è morbido quindi sulla pelle non dà fastidio. Ho provato questa maglia anche su un vestito nero e devo dire che con il fatto che c'è il lurex comunque lo rende anche molto elegante. Se volete Monica ha anche una sua pagina su Instagram denominata L'Essenziale 22, tutto attaccato. Se siete interessati seguitela. Ma adesso veniamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di maggio. Parliamo di Roberta Genovesi che ha ottenuto più mi piace, devo dire davvero tantissimi, con questa borsa. La borsa che probabilmente avete più riproposto durante quest'ultimo periodo che è la borsa Gerbera della Fata Tutto Fare. Roberta per realizzarla ha utilizzato Pandoro Queen rame, fondo 30x10 cuoio, scocca, manici simple cuoio perché come sapete manici simple insieme ai fondi hanno la stessa identica tonalità. Ma anche uncinetto numero 4 completato il tutto con una bella targhetta e infine una bella sacca ottoman che Roberta adora perché così può spostare tutto da una borsa all'altra senza di volta disfare o rischiare di dimenticare qualcosa. Roberta ringrazia ovviamente anche tutti coloro che hanno cliccato quel bel pollice in su sotto il suo progetto permettendone quindi di ottenere questo enorme risultato. Ci ha raccontato che abita sulle colline Parmenzi e ha sempre amato Landmade in tutte le sue forme. Da circa tre anni ha scoperto questo amore per il crochet grazie anche alla Fata Tutto Fare. Con il fiore Gerbera ha dato vita anche a un'altra borsa. Ha creato davvero moltissimi capi di abbigliamento proprio sempre grazie alla Fata Tutto Fare ma grazie anche ai nostri materiali. Adesso si è cimentata con le borse. Se siete interessate a qualche altro articolo per prendere spunto per qualche progetto che vi interessa particolarmente potete seguirla sia su Instagram che su Facebook con il nome Meeting with Robbie. Ringrazia noi e la Fata Tutto Fare perché con tutti i nostri video e le nostre dirette le facciamo moltissima compagnia. Noi ovviamente però ringraziamo Roberta e le facciamo tantissimi complimenti per il risultato ottenuto. Non è finita qui. Come abbiamo detto adesso Tessiland Condivision inizia a prendere un'altra piega. Parliamo di moda, parliamo di tendenza. In fondo Tessiland è un catalogo strapieno di articoli che davvero vi consentono di essere alla moda. E parlando di moda di tendenza a primavera estate 2023 non possiamo non citare ovviamente il crochet. Infatti anche le passerelle della primavera estate 2023 ci propongono questo must have di stagione con dei look davvero incredibili di cui è impossibile non innamorarsi. Infatti non c'è capo d'abbigliamento di accessori che non venga realizzato proprio con questa tecnica del crochet. Dal sapore vagamente hippie e bohemian. Insomma anche quest'anno nella moda primavera estate 2023 il crochet è all'apice del successo. E proprio a tal proposito ovviamente Tessiland che segue ed è sempre al passo con la moda e con le tendenze non poteva che dedicarsi proprio su questo punto. E come sapete Tessiland all'interno del suo sito ha un blog che ormai soprattutto ultimamente pullula di articoli molto molto interessanti scritti dalla nostra Rosaria. Rosi ci dà sempre tantissimi spunti tantissime idee ma anche delle informazioni utili quindi mi raccomando leggetelo sempre perché è davvero molto molto interessante. E a tal proposito infatti parliamo dell'articolo che ha ricevuto davvero tantissimi click tantissimi commenti e tantissime interazioni nel mese di maggio. L'articolo in questione è tre abiti ad uncinetto che non possono mancare nel tuo guardaroba. Ovviamente gli abiti a crochet come abbiamo detto prima sono all'apice del successo anche quest'anno e anche le grandi marche lo hanno riproposto da Dior a Missoni a Carolina Herrera, Barberi, Alberta Ferretti e Max Mare. Insomma sogniamo un po' ma fino ad un certo punto facciamo in modo anzi che questi sogni possano diventare realtà. E infatti ci sono questi tre abiti come proprio Rosaria ci ha descritto non devono mancare nel vostro guardaroba. Prendendo spunto dalla moda dalla tendenza che ci circonda ci sono tre abiti che dovete assolutamente realizzare che sono l'abito mini perfetto per essere abbinato magari a dei gioielli colorati o comunque dei gioielli crochet per fare in modo che davvero questo tessuto crochet possa essere un look dalla testa ai piedi. Ma ancora c'è l'abito invece midi questa volta parliamo di un abito un po' più lungo che arriva poco sotto il ginocchio perfetto da essere indossato anche con delle semplici sneakers o perché no anche con dei sandali. E infine il terzo capo immancabile nel vostro guardaroba sarà sicuramente l'abito longhetto decisamente più lungo di quelli da indossare sul tramonto con un bel cocktail in mano un po' di musical lounge jazz che fa da sottofondo sulla spiaggia. Un vento che accrezza i capelli che con l'acqua del mare hanno sempre un aspetto meraviglioso e che poi provi sempre a casa a riproporlo e invece non ci riesci mai. Ecco con un abito longhetto sareste davvero perfettissime. Adesso svegliamoci e pensiamo invece ai filati che potreste utilizzare proprio per realizzare questi tre abiti o comunque un abito crochet. Parliamo del lighi in tutte le sue varie sfumature o perché no anche in tinta unita. Lineard per tocco beau chic con il misto del lino. Handy e filo di scozia molto sottile ma davvero molto elegante per dare un tocco di luce al vostro outfit. Donnie immancabile cotone per dare magari un po' di spessore in più per quando tira quella leggera brezza marina. E ovviamente illuminiamo il nostro viso con i gioielli grazie proprio al Lumina 6, 9 o 12 che sia. Se volete quindi seguire la moda di quest'anno e soprattutto dare sfogo e trovare una scusa in più per acquistare altri filati questi tre abiti davvero non possono mancare nel vostro guardaroba. E mi raccomando leggete questo articolo per chi non l'avesse ancora già fatto perché all'interno troverete i tre abiti di cui abbiamo parlato prima con tre tutorial a cui potrete ispirarvi e le relative indicazioni sui filati da utilizzare che potete trovare direttamente sul nostro catalogo Tessiland. Detto ciò la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui ma non prima di ricordarvi un'altra cosa per chi insomma non lo sapesse quasi ogni venerdì o comunque quando riusciamo c'è la nostra diretta c'è Tessiland Live con me e Andrea di cui parliamo delle novità rispondiamo alle vostre domande. E soprattutto nella diretta di questa ciocca che mi dà enormemente fastidio perché i miei capelli sono senza senso e soprattutto nella diretta di venerdì scorso abbiamo detto qualcosa proprio in merito a Tessiland Condivision o meglio in merito al progetto che otterrà nel mese di luglio ebbene sì parliamo solo di luglio non sappiamo se poi questa cosa verrà riproposta oppure no. Ma nel mese di luglio abbiamo deciso di fare questo cambiamento o meglio di premiare non direttamente noi ma bensì voi la foto che avrà ottenuto più mi piace durante il mese di giugno con un codice di un buono sconto da 20 euro da applicare sul nostro catalogo Tessiland con il quale quindi potreste fare un ordine del tutto gratuito senza pagare infatti neanche le spese di spedizione. Per farlo è molto semplice sarete solo voi a decidere la foto che dovrà ottenere più mi piace durante il mese mi raccomando di giugno. Se avete già pubblicato quindi chiedete ad amici e parenti di cliccare quel pollice in su se non l'avete ancora fatto cimentatevi e chiedetelo lo stesso in modo tale da poter mostrare la vostra foto. Per ottenere più mi piace i consigli sono sempre questi mettete in risalto la vostra creatività la vostra creazione una volta che ve l'avrete realizzata senza troppi fronzoli senza troppi filtri ma semplicemente la creazione in sé magari mostrate le vostre mani meglio ancora sulla luce naturale. Fatela brillare non per forza solo con il filato ma anche semplicemente di luce propria la descrizione che dovrete apporre sarà fondamentale perché servirà proprio per colpire chi vedrà la vostra creazione far capire la vostra intenzione il messaggio che magari volete inviare proprio con quel progetto. Dite ovviamente i filati e i prodotti che avete utilizzato anche perché ci sarebbe impossibile altrimenti ricondividere la vostra foto. E adesso veramente è conclusa la puntata vi ricordo di seguirci su tutti i social quindi youtube facebook instagram pinterest e tiktok noi ci vediamo il prossimo mese con una nuova puntata di Tessilan Condivision ciao. Ciao.